Sangue sulle strade, come diminuire gli incidenti causati dalla guida in stato di ebrezza o in preda alla droga? Il governo è a caccia di progetti innovativi e sperimentali e mette sul piatto un finanziamento fino a 350.000 euro per i comuni capaci di trovare idee. Vicenza c'è e ha la sua proposta. Abbiamo coinvolto tutte quelle realtà istituzionali importanti, da primis la prefettura di Vicenza, la motorizzazione, l'ULS, le scuole, anche l'ufficio scolastico provinciale, proprio per riuscire ad attivare tutti quei canali comunicativi nei confronti dei ragazzi. Quindi proprio un coinvolgimento dei ragazzi diretto anche, quindi la formazione degli insegnanti, non solo delle scuole superiori, ma anche degli insegnanti delle scuole guida, in modo tale che abbiano anche loro una formazione per potersi rivolgere agli studenti in modo più semplice e più efficace. Ma anche l'attivazione di laboratori che portano i ragazzi a essere protagonisti, a essere loro portatori di queste informazioni con loro coetanei. A Vicenza il numero degli incidenti stradali provocati dall'alcol è in calo del 30%. 14 nel 2020 contro i 21 del 2019 e i 20 del 2018. Purtroppo però ancora la maggior parte di queste tragedie della strada colpisce giovani tra i 18 e i 30 anni. Oggi però con questo progetto, grazie ai contributi stanziati dal governo, la polizia locale potrà avere nuove armi, non tanto per la repressione ma per la prevenzione degli incidenti stradali provocati dal consumo di alcol e droga. Con questo progetto intendiamo anche, munendoci del contributo che verrà finanziato dallo Stato, dal Dipartimento, di opportune attrezzature e soprattutto con dei pretest degli analizzatori di saliva che sono finalizzati a verificare la sussistenza di sostanze stupefacenti nel sangue. Poi di un sistema di rilevamento topografico dei sinistratali che contribuirà a recuperare delle risorse umane dagli uffici. Le ciliegine sulla torta abbiamo proposto di acquistare l'auto per la conduzione del cane dell'unità cinofila che quindi il conduttore avrà un'auto proprio adibita al trasporto degli animali. Grazie. 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 Grazie a tutti.